Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati qui dal vostro M89 Gamer. Oggi andiamo a parlare del Clash Guardianship. Ragazzi, che cos'è il Clash Guardianship? È un programma ad hoc per la community, costruito e rivolto proprio per tutti i player che sono interessati all'eSport per avvicinarli alla nostra realtà. Tutto questo grazie ad eventi e contenuti esclusivi che vi daranno la possibilità di sfidare tantissimi player skillati, accedere a contenuti educational esclusivi creati dal nostro Pro Team e a montepremi pazzeschi. Già dal mese di aprile abbiamo iniziato a portare i nostri eventi in Boxfight e in Zone Wars che vi hanno permesso di incontrare i nostri player e di divertirci assieme. Nei mesi a venire, già da maggio, includeremo anche i server privati in duo e in squad. Per quanto riguarda i contenuti esclusivi e la parte educational, avrete la possibilità di conoscere meglio me, M89 Gamer, che sono lo streamer di Clash Fortnite, e tutto il Pro Team, quindi Zid, Kevin e Foyt, che proporranno contenuti ad hoc per voi con azioni di gioco skillate per imparare e migliorarvi in game. Ora ragazzi vi andrò a spiegare il perché abbiamo creato il Clash Guardianship, per dare la possibilità di partecipare in modo attivo ai nostri eventi, di farvi assaporare cosa vuol dire essere della community Clash e di farvi diventare parte vitale di essa. E questo ci permetterà di continuare a creare contenuti unici, eventi e tornei di Fortnite per i membri di Clash Italia. Ora ragazzi andremo a parlare di che cosa sono i tier del Guardianship. I tier sono fondamentalmente i piani di abbonamento, suddivisi in quattro. Abbiamo il primo piano che si chiama Supporter, il secondo Protector, il terzo Champion e l'ultimo Angel. Ovviamente ognuno di loro ha dei prezzi differenti, con dei vantaggi differenti. Partendo ad esempio dal Supporter, potremo già accedere agli eventi esclusivi, al 10% di sconto nello shop di Clash e al ruolo esclusivo di Supporter nel nostro Discord. Con il tier Protector, oltre ad avere tutti i vantaggi del tier precedente, avrete anche la possibilità di essere all'interno di un gruppo WhatsApp esclusivo con il Pro Team, M89 Gamer e lo staff di Clash e accedere a contenuti esclusivi e porre domande al Pro Team a livello tecnico di gameplay. Il tier Champion vi darà la possibilità di avere il rispettivo ruolo sul Discord, di avere mensilmente la possibilità di sfidare il Pro Team e gli streamer di Clash. Il tier Ranger, oltre a darvi tutti i vantaggi precedenti, vi darà la possibilità di giocare una volta al mese con il Pro Team e gli streamer in live. Oltre a questo vi verranno dati dei banner personalizzati da inserire sui vostri social barchiati Clash. E infine verrete inseriti in una lista speciale pubblicata una volta al mese sui nostri social Instagram e Discord. Per concludere questa panoramica sui vari tier del Guardianship vi ricordo che l'accesso al Monte Premi è esclusivo per chi sottoscrive almeno uno di questi piani e in base al tier che avete riceverete un Monte Premi più alto, oltre ad avere uno sconto maggiore nello shop di Clash e accedere ad eventi esclusivi con il Pro Team e con gli streamer di Clash. Ora andiamo a parlare degli eventi che si terranno a maggio. Si partirà lunedì e martedì con server privati in duo e venerdì con i server privati in squad. Il Monte Premi sarà suddiviso per i server in duo nella prima top 5, quindi verranno premiate 10 persone, mentre invece nei server in squad sarà premiata la top 3, quindi 12 persone. Durante il mese in realtà saranno inseriti eventi a sorpresa in Boxfight e in Zone Wars. Ci tengo a precisare nuovamente che solamente i possessori di uno dei tier citati in precedenza potrà accedere e riscattare il Monte Premi in questione. Ora che abbiamo parlato di tutte queste cose, dei tier, dei vari eventi eccetera, ma come si fa a iscriversi al Clash Guardianship? Beh, in realtà ragazzi è molto semplice. Come prima cosa dovrete andare sul sito di Patreon. Andare nella barra di ricerca in alto, scrivere Clash Guardianship Program Fortnite Italy. Successivamente abbonarsi con uno dei tier collegando una carta al vostro account Patreon. Infine ragazzi non dimenticatevi di collegare Patreon con il Discord per ricevere immediatamente il vostro ruolo sul nostro server. Per ulteriori informazioni sui tier potrete andare sul sito di Patreon utilizzando la barra di ricerca scrivendo Clash Guardianship Program. Per quanto riguarda invece gli eventi, se volete informazioni in più potete contattarci direttamente su Instagram agli account Clash-Fortnite, M89-Gamer, ZidFN-O o Creamy Kevin. Per quanto riguarda le live invece si terranno sul mio canale YouTube M89-Gamer e sul canale Twitch Clash-Zid. Come ultima parte del video vi chiediamo cosa ne pensate del Guardianship Program? Che cosa vorreste vedere nel futuro e che cosa cambiereste? Bene il video termina qua, il vostro M89-Gamer vi saluta, ci vediamo carichissimi per gli eventi del Guardianship in live e mi raccomando ragazzi, stay on guard with Clash.